Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro TG Vallate. In apertura di questa edizione andiamo in Casentino con Quiete e Rinascita per parlare di Vasari. Questo è il titolo della mostra che aprirà i battenti domenica 4 agosto. Domenica 4 agosto al via la manifestazione Quiete e Rinascita Giorgio Vasari a Camaldoli e in Casentino nel contesto delle celebrazioni per il 450esimo anniversario dalla morte del pittore e architetto Aretino. Il progetto è promosso e realizzato dalla comunità monastica di Camaldoli e da Mazzafirra PS con il patrocino del contributo della regione toscana e del comune di Puppi. L'esposizione diffusa a Camaldoli permetterà di scoprire tutte le opere che il Vasari realizzò per il monastero, addirittura 16 quelle custodite ancora in loco, seguendo un percorso dove potranno essere visibili ambienti solitamente inaccessibili al pubblico e opere finora mai uscite dai confini della clausura. L'iniziativa fa parte di un progetto diffuso anche in Casentino con eventi fino al novembre 2024 e comprende la realizzazione di un catalogo presentato il 4 agosto, la creazione di un itinerario che segue il filo rosso delle opere vasareane in Casentino e che permetterà non solo lo studio di opere finora trascurate dalla critica ma anche di distribuire visitatori nel territorio. Inoltre ad una serie di conferenze proposte presso il Castello di Poppi verrà affidato il compito di avvicinare il grande pubblico a questi argomenti sensibilizzandolo alle vicende in Toscana al tempo di Cosimo I, all'arte di Giorgio Vasari e all'importanza storico-culturale del monastero di Camaldoli. All'inaugurazione ad ingresso libero fissata per domenica alle 16 nella sala Landino del monastero di Camaldoli interverranno Don Matteo Ferrari, priore generale dell'ordine camaldolese, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, Federico Lorenzoni, sindaco del comune di Poppi, Lorenzo Basagni, consigliera la cultura del comune e i due curatori Don Ubaldo Cortoni, bibliotecario archiviste e Michael Scipioni, storico dell'arte. A moderare sarà Gabriele Roggi. Cambiamo argomento. Ugo Pezzotti è il nuovo direttore della nefrologia dell'ospedale del Valdarno. Subentra Carlo Mura andato in pensione. Pezzotti lavora nel reparto della Gruccia dal 2008. La sua nomina sarà operativa a partire dal 16 agosto. Parliamo adesso di turismo da record e lo facciamo andando a Castiglion Fiorentino. La conferma arriva dal vice sindaco Davis Milighetti. Dopo un 2023 da record, i dati provvisori del primo semestre 2024, raccolti in base all'imposta di soggiorno, segnano un ulteriore primato. Mai nella storia del turismo castiglionese avevamo registrato un simile risultato. Grazie ad un'offerta unica variegata e di qualità, si consolida la destinazione Castiglion Fiorentino in crescita rispetto al 2023, sia negli arrivi più 5%, sia nelle presenze più 11%, con un incremento della permanenza media sul nostro territorio. È la dichiarazione del vice sindaco con delega al turismo Davis Milighetti, proprio all'inizio di agosto mese che porterà il Vintage Festival, evento principale dell'estate castiglionese. L'aumento della permanenza media turistica nel periodo primaverile e l'incremento degli ospiti nel primo trimestre è segno di una incoraggiante vitalità e destagionalizzazione del turismo nel comune di Castiglion Fiorentino. Il cambio di tendenza dei turisti che ricercano un rapporto sempre più intenso con la natura si manifesta nella preferenza per le strutture ricettive extra alberghiere e si traduce in numeri significativi per il comparto open air. Fra le numerose strutture ricettive del territorio sono presenti delle autentiche eccellenze, prosegue il vice sindaco, nelle quali lavorano operatori del settore altamente specializzati. Merito anche dei molti imprenditori che negli anni a Castiglion Fiorentino hanno curato un'offerta nel segno della qualità e dell'alta specializzazione, favorendo il successo del nostro turismo, conclude Milighetti. Durante l'ultimo consiglio comunale è stata approvata la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Capolona e Monte San Savino con la dottoressa Cinzia Macchiarelli. Lo dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli all'indomani del consiglio comunale che si è tenuto alcuni giorni fa. E rimaniamo in Val di Chiana perché domani, sabato 3 agosto, Mercatale di Cortona si anima con la notte dello shopping. Per il terzo anno consecutivo protagonista la Val di Pierle le sue attività con un programma che vedrà il mercatino dell'artigianato, animazione per bambini e musica dal vivo. Un'occasione per valorizzare il commercio anche nelle aree periferiche dove i negozi svolgono un ruolo essenziale di servizio di prossimità e socialità. Quest'anno è ancora più robusta, nuove offerte gastronomiche, spettacoli per bambini, per più grandi. Praticamente tutto il paese è coinvolto con i suoi negozi, con le sue macellerie, con i suoi bar, con i suoi ristoranti, un'opportunità veramente deliziosa per passare un sabato sera in allegria e con una buona cucina. Questi eventi credo che siano importanti perché evidentemente danno stimolo alle attività commerciali non solo ma anche culturali. Quindi noi siamo davvero soddisfatti di sponsorizzare la manifestazione Mercatale sotto le stelle e crediamo che anche quest'anno, se il tempo sicuramente ci darà una mano, potrà essere un'edizione eccezionale. La nostra presenza su questa comunità molto attiva e molto fattiva del nostro territorio cortonese e quindi saremo presenti con un'apertura simbolica ovviamente del nostro negozio, del nostro punto antropologico così come lo definiamo e per affiancare comunque questa bella iniziativa di confcommercio e per far sentire comunque la nostra presenza assieme a quella di chi assiste nel quotidiano, anche chi intraprende e chi si occupa di commercio. Sabato 3 agosto alle 21.15 si terrà nella splendida cornice dei giardini pensili di Palazzo di Monte il concerto di chiusura del Monte San Savino Festival, ad esibirsi una band di 18 trombe guidata dal maestro Andrea Lucchi. È affidata alle note di una super band con 18 trombe, la chiusura dell'edizione 2024 del Monte San Savino Festival. Il concerto, in programma sabato 3 agosto alle 21.15, si terrà nella splendida cornice dei giardini pensili di Palazzo di Monte. A guidare la band il maestro Andrea Lucchi, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia e già nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI fino al 2002. Cala il sipario dunque su un festival che fa della valorizzazione del talento giovane il cuore del proprio progetto. Il Monte San Savino Festival, diretto dal maestro Luigi Tanganelli, è promosso dal comune ed organizzato da Monteservizi SRL. Sono qua con 12 ragazzi molto bravi, desiderosi di apprendere quest'arte di suonare la tromba e con i quali poi a fine percorso di questa settimana faremo un concerto in una location bellissima all'aperto dove eseguiremo arrangiamenti per gruppo grande di trombe che ha detto così uno magari immagina che sia una cosa un po' bandistica in realtà e di tutt'altro livello, molto raffinato e si suoneranno musiche di generi più vari praticamente, suoneremo musiche di rota, di morricone, di piazzolla, suoneremo qualcosa di quina anche, quindi sarà una serata bella, ricca di emozioni e soprattutto alla portata di tutti. Con le elezioni di oggi la textura di Castiglion Fibocchi ha due delegate della Filctem CGL, hanno ottenuto 21 voti su 24. Per noi è un risultato importante che viene immediatamente dopo quello alla Sicla, il calzaturificio di Montevarchi, annuncia Elisa Calori, segretaria provinciale Filctem. In textura il numero di addetti è decisamente inferiore, una trentina, ma il nome di questa azienda racchiude un pezzo importante della storia dell'industrializzazione della provincia di Arezzo e in particolar modo delle confezioni. Inoltre la totalità della RSU è rappresentata da donne, segno di un rinnovato impegno femminile nel sindacato. Il 26 agosto il concerto per Battiato di Cristicchi e Amara a San Giovanni Valdarno. Il 26 agosto tornerà la grande musica in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno con il concerto di Simone Cristicchi e Amara in memoria e onore di Franco Battiato. Una rivisitazione dei brani del cantautore a tre anni dalla sua scomparsa e che chiude la ventesima edizione del Festival Oriente Occidente. Simone Cristicchi pur essendo un cantautore affermato da tanti anni si è sempre proposto con questa idea di fusione di teatro e musica, teatro e canzone. Cristicchi ha un ruolo veramente originale nel panorama della musica cosiddetta leggera italiana e il fatto che abbia deciso di rendere omaggio, di riportare in scena alcune pagine fondamentali di Battiato è il modo migliore per concludere l'Oriente Occidente del 2024. Un legame, quello fra San Giovanni Valdarno e Battiato che racconta l'assessore alla cultura Franchi. Come amava raccontare il suo collaboratore Destrieri, il successo di Battiato molti anni fa intorno all'uscita del disco La Voce del Padrone venne proprio a San Giovanni. Da poche centinaia di persone con il concerto di San Giovanni invece migliaia, migliaia e migliaia. Tanto che Battiato raccontava tutte le volte che passava in autostrada da qui, indicava all'uscita del cassello e diceva vedi lì a San Giovanni Valdarno è iniziato il nostro successo e non potevamo a tre anni e qualche mese di distanza dalla morte ricordarlo in modo migliore con un concerto che punta alle melodie ma anche alle ispirazioni di Battiato con Cristicchia Mara, concerto mistico e spirituale. Chiudiamo questa edizione proprio con una notizia che riguarda il Tg Vallate che si prende una pausa estiva. L'informazione relativa ai comprensori del territorio aretino viene sospesa per due settimane a partire da lunedì 5 agosto. Il telegiornale tornerà lunedì 19 agosto in onda come sempre alle 19.30 su Teletruria. È tutto dunque per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Teletruria. Grazie a tutti.